Cosa vuoi ricevere un codice skin? Se anche tu lo vuoi ricevere io 50 per andare a lasciare un bellissimo like Quindi 5, 4, 3, 2, 1 e vai a lasciare un bellissimo like in questo momento se vuoi ricevere anche tu un codice skin da parte mia Beh ragazzi andate a tutti a lasciare un bellissimo like perchè a 50 like sotto a questo video andate a lasciare un codice skin E non solo dovete anche andare a scrivermi il vostro ID qui sotto nei commenti se lo avete ricevere è un regalo Qui su foret con questi 2.9 vbac che ho io quindi codice coding gamer 582 E non è finito qui perchè appunto ragazzi se siete interessati a ottenere un'altra skin gratis andate a premere ora qui accenno nello schermo Troverete questo video quindi ragazzi se avete il codice skin lasciate un bel like, commentate con i vostri ID Ciao ragazzi, bye